Antonelli si continua a parlare tanto del possibile rimpasto in giunta a Pescara, se ne parla da settimane, resta però tutto fermo, insomma qual è la situazione? Soprattutto ne parlano gli organi di stampa perché in realtà poi la situazione è abbastanza semplice, ci sono stati dei movimenti all'interno dei gruppi consigliari, cosa purtroppo fisiologica, in ogni consigliatura questo è avvenuto e tutto questo potrebbe determinare l'esigenza di apportare delle piccole modifiche, peraltro siamo quasi a metà consigliatura, io credo anche qui che sia fisiologico rivedere magari qualche assetto e anche fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto, su ciò che resta da fare, tenuto conto che rispetto al passato abbiamo vissuto questo anno e mezzo, quasi due anni di pandemia che sicuramente hanno stravolto le attività di tutte le pubbliche amministrazioni, da questo punto di vista quindi anche il Comune di Pescara non fa la differenza. Credo che siamo esattamente nella normalità, insomma in qualche modo arriverà il momento, io credo, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane in cui ci si siederà proprio per programmare al meglio il secondo scorcio di consigliatura. Mettendo da parte il suo ruolo super partes di presidente del Consiglio Comunale, le chiedo da esponente della Lega, secondo lei questo rimpasto ci sarà? Quando? Ma soprattutto potrebbe creare qualche problema nella maggioranza? Intanto io non parlerei di rimpasto, che è un brutto termine, non mi piace e quindi non lo utilizzo. Io parlo di un diverso assetto organigrammatico e programmatico per quanto riguarda i due anni, e mezzo che abbiamo davanti, Nuova Pescara permettendo. Quindi tutto questo avverrà come abbiamo fatto fino ad oggi nella massima condivisione possibile. Torno a dire, purtroppo io credo la stampa che faccia il suo lavoro è normale che la notizia c'è e quindi gli organi di informazione l'affrontino. Credo che tutto sia determinato molto da una prevalente attività che si svolge sui social. Per fortuna poi, quando bisogna parlare dei problemi della città, che sono quelli che ci stanno a cuore, lo si farà attorno ai tavoli istituzionali. Quindi immagino, ripeto, che da qui alla fine dell'anno noi questo punto della situazione lo faremo.